Ciao ragazzi, vi ritrovate sul mio canale Miccalli, io sono Michele e oggi vi voglio parlare di lampadine, o meglio, di una vera e propria catena luminosa avvicino come sempre il packaging per farvelo vedere meglio alla fotocamera l'azienda si chiama Kuntis, questo è il nome del brand ed è un'azienda di cui ho già parlato su questo canale perché ho recensito un caricatore per smartphone un'azienda che fa della qualità dei propri prodotti il suo punto di forza ora, questa catena luminosa mi ha colpito tantissimo perché, beh, innanzitutto a chi è indicata? è indicata a tutte quelle persone che hanno un ristorante, un locale, vogliono andare a luminare ambienti esterni ma non solo, infatti, come vi farò vedere nel packaging si parla anche di indoor e quindi di ambienti interni come potrebbe essere un corridoio è indicata a tutte quelle persone che hanno un giardino, con un gazebo, vogliono fare delle decorazioni per feste, Halloween, matrimoni o quant'altro e io le andrò a testare in questo video su un terrazzo di circa 55 metri quadrati e vi farò vedere come, nonostante parliamo di 50 lumen ed è proprio questo uno dei punti di forza, infatti, ogni lampadina qui ne sono 30 nello specifico genera una potenza per l'appunto di 1 watt che apparentemente può sembrare poco nel loro insieme, in sinergia tra loro, generano una luce davvero davvero che mi ha stupito anche perché vi farò vedere per l'appunto che stiamo parlando di 2700 K, quindi un colore di tipo bianco caldo che davvero riesce a illuminare ambienti molto grandi tra l'altro questa versione è quella da 31 metri perché ne esiste un'altra da 16 metri per conto di quanti prezzi ci aggiriamo intorno ai 75 euro e 42 euro circa per i 16 metri ma ho messo qui in descrizione il link per poter acquistare insieme a un ulteriore codice sconto del 10% però affrettatevi ad acquistarle perché l'offerta di codice sconto vi ripeto lo troverete qui in descrizione veramente un'illuminazione che mi ha stupito vi farò vedere per l'appunto grazie a una prova che ho fatto sul campo insomma a me una cosa che piace molto è la città illuminata e c'è una frase di Jacques Sauard il quale diceva che la città dorme come i bambini ovvero con la lampada accesa infatti secondo me un'illuminazione può veramente fare la differenza tra un ambiente e un altro luci che tra l'altro hanno una certificazione IP65 quindi questo vi permetterà di poter essere resistenti all'acqua, alla pioggia, al vento e qualsiasi altro la gente è matto sferico ma basta chiacchiere e andiamo a scoprirle insieme dopo la sigla questo è il nostro packaging per l'appunto questa è la catena luminosa nello specifico da 31 metri in quanto vi è un'altra versione da circa 16 metri ora è possibile se avete degli ambienti molto grandi andare ad allungare la catena fino a 12 fili grazie appunto a una sorta di gaggio che vi permetterà per l'appunto di poter allungare la catena luminosa qualora voi desiderate a quest'anne delle altre 50 lumen quindi come ho detto precedentemente ogni lampadina ha una potenza di 1 watt e loro accesi tutti insieme sinergicamente riescono a generare davvero una bellissima luce quindi appunto grazie a questi 2700 kevin di temperatura con una premium quality che genera una sorta di colore bianco caldo ovviamente parliamo di lampadine a led lampadine che sono realizzate in plastica e non in vetro ovviamente perché devono resistere per l'appunto ad agenti atmosferici ovviamente tutto questo certificato grazie a una certificazione per l'appunto di ip65 qui alcune diciamo delle caratteristiche per l'appunto diciamo delle lampadine come potete vedere la distanza che c'è tra una lampadina una dall'altra e quant'altro comunque troverete tutte le varie specifiche anche sul sito che ho messo sul link che ho messo in descrizione in questo video ora andiamo a vedere che cosa c'è per l'appunto all'interno del packaging e allora ho aperto il packaging all'interno troveremo delle fascette che ci permetteranno poi vi farò vedere di poter attaccare a qualunque insomma superficie quelle che sono questa è la lampadina quindi questa è la catena luminosa qui abbiamo un manoletto di istruzioni e qui è un sample questo diciamo è il materiale petto però quindi una sorta diciamo di materiale plastico dove poi all'interno va messa questa sorta diciamo di led per l'appunto e poi questo va agganciato a quello che è l'apposito alloggiamento per l'appunto della lampadina lampadina che vi faccio vedere subito bene eccole qui come vi ho fatto vedere precedentemente ho inserito il led qui all'interno vado ad agganciare questa sorta diciamo di protezione per l'appunto in plastica che come vi dicevo è in grado di resistere a quelle che sono i diversi agenti metto sperici e questa è tutta la catena luminosa che in questo momento non vado ad aprire perché poi farò una prova sul campo che in questo caso specifico è di 31 metri ma come vi dicevo esiste in una pressione 16 metri vi è qui un forellino che permetterà questa lampadina di poter essere appese in dei chiodi comunque delle strutture precedentemente realizzate o comunque è possibile anche utilizzarli per inserire per l'appunto le fascette invece abbiamo il classico cavo di alimentazione che va attaccato al muro che è circa lungo un metro e mezzo e qui alcune specifiche per l'appunto relative al voltaggio chiaramente poi troverete tutte le indicazioni sul link amazon che ho messo in descrizione bene ragazzi a questo punto andiamo a fare una prova sul campo io le andrò ad applicare su un terrazzo di 55 metri quadrati aspetterò poi la sera e vi farò vedere l'effetto finale e allora ragazzi che cosa ho fatto ho preso tutte le lampadine e le ho messe su questo terrazzo di circa 55 metri quadrati quindi piuttosto grande le ho applicate lungo la ringhiera partendo dal tetto in modo da illuminare tutto quanto il terrazzo ho aspettato la sera sono circa le 10 di sera quindi l'ambiente è totalmente buio e vi posso assicurare che le luci riuscivano ad illuminare tutto quanto il terrazzo vi faccio vedere una foto che rende giustizia rispetto al video per farvi capire quella che la situazione che io vedevo per l'appunto in quel momento delle luci fantastiche che riescono a illuminare tutto il terrazzo con questo colore bianco caldo bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto insomma vi consiglio di andare a cliccare sul link d'iscrizione quindi di inserire il codice sconto entro il 30 marzo per avere un ulteriore sconto del 10 per cento a quello che il prezzo che troverete nello store di amazon per un prodotto che si è piaciuto davvero tanto un saluto da michele e dal canale michael arrivederci a un prossimo video